Benvenuto alla nuova edizione, ci fa piacere averti qua con noi. Con chi abbiamo il piacere di parlare, da dove vieni? Ciao, io sono Giuseppe e vengo da Trieste. È la tua prima volta a Gran Galà, cosa ti ha spinto a partecipare e cosa ti potrà invogliare eventualmente a tornare con noi il prossimo anno? Beh sì, è la prima volta, è da una bellissima manifestazione e mi ha spinto a partecipare la passione per questo grande marchio che è l'Alfa Romeo e tutte queste belle macchine messe così in esposizione, è veramente una goduria per gli occhi. Cosa ne pensi di questa manifestazione, degli organizzatori in modo particolare e del Club Stile? Il Club Stile Alfa Romeo è un grande club, nel senso io comunque ne faccio parte da quasi un anno più o meno ed è fatto veramente da persone che ci mettono la passione, il cuore e i risultati si vedono e si vedranno nel corso della giornata, spero. Anche perché l'anno prossimo penso che farò anche io parte dello staff, quindi mi devo preparare anche a questo. Definisci cosa rappresenta per te l'Alfa Romeo, nella vita di tutti i giorni come vivi questa passione? Io per lavoro faccio molti chilometri e quindi praticamente vivo dentro la mia Alfa Romeo ed è veramente una gran cosa, è una cosa spinta dalla passione appunto come ho già detto e Alfa Romeo è comunque un brand che trasmette i valori di sportività e soprattutto dell'italianità perché sono veramente belle macchine e mi fa piacere che siano italiane, quindi sono orgoglioso di avere un Alfa Romeo. Grazie Giuseppe per essere stato disponibile così carino con noi. Ci vediamo dopo al pranzo naturalmente con il corteo. Va bene, grazie, buona giornata.